un saluto a tutti gli amici campanari di youtube ci troviamo nel centro storico di camaiore alla collegiata di santa maria assunta su questo possente campanile troviamo un concerto di tre campane più due suonelli che adesso ascolteremo a plenum per la vigilia della solennità del corpus domini suoneranno a plenum ovvero con le tre maggiori a doppio sincronizzato e i due suonelli a distesa e quindi a presto e felice solennità del corpus domini a tutti i campanari di youtube a presto 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.